Sono Roberto Mancini, numero 10 della Samp. Gianluca Vialli, bomber, attaccante. Io mi ricordo che gli dissi perché non viene la Samp. Stiamo facendo una squadra fortissima. Ci colleghiamo dallo stadio, Luigi Ferrari, Team Marazzi. Siamo stati credo una squadra di tanti fratelli. Il primo al quale ho condiviso il mio futuro è stato Roberto. E lui credeva moltissimo nel progetto. Nel 90-91 avevamo Napoli di Maradona, l'Inter dei tedeschi, Milan degli olandesi, la Juve di Baggio Schillacci, veramente delle corazzate. Sampdoria è come una bella ragazza che tutti vogliamo dare baci. Per noi è stato un grande maestro perché ci ha dato la forza di credere in noi stessi. Noi eravamo Sampdoria, Sampdoria è Sampdoria, lui diceva. Ci descrivevano come delle eterne promesse. Era un giudizio che ci spingeva a fargliela vedere. E poi, come capitano del calcio, succedono delle cose incredibili. Non c'era nulla che facessimo senza dilatirci. Poi la domenica fischiavo l'arbitro, scendavo nel campo e dicevamo. Quando si vince è sempre festa. Sempre tanta festa. Lui era quello bello, era quello simpatico. Io facevo il lavoro sporco, come in campo.